Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque oggi ci occupiamo di due novità della Honda che la casa Alata ha rilasciato sul mercato giapponese qualche giorno fa. La prevenza di questo video è questa, ovvero che le moto in questione, quelle delle quali vi parlo tra poco, sono moto confermate al momento solo sul mercato giapponese. Non c'è una data prevista di arrivo sul mercato mondiale, quindi non dovrebbero arrivare a breve, quantomeno, sul mercato europeo e neanche quello italiano. Però comunque sia, ve ne parlo perché, capite, magari Honda potrebbe rivedere i suoi piani, potrebbe, diciamo, fare una sorpresa e le moto potrebbero effettivamente arrivare magari nel giro di qualche mese e comunque sia, secondo me, sono molto interessanti, che vale la pena comunque dedicarci un video. Allora ragazzi, parliamo della nuova CB1003 Super 4 e CB1003 Super Board Door, due moto con uno stile classico. Qui di fianco vi lascio qualche foto di questa moto, purtroppo ce ne sono poche, la Honda rilascia sempre poche foto quando, diciamo, annunciamo delle nuove, quindi io vi metto le foto che sono arrivate. Dicevo, due moto con uno stile classico. La versione CB1003 Super 4 è una naked classica, muscolosa, mentre la variante Super Board Door è la stessa moto però con la semi carena e con un faro anche, un faro diverso. Questione design, questione estetica, a me la moto, le due moto non dispiacciono. Cioè, fanno parte di quelle moto con quegli stili classici che richiamano un po' gli anni 90, gli anni 2000. Secondo me sono delle moto comunque affascinanti, no? Ci sono delle naked, muscolose, cattive. Onestamente lo stile non mi dispiace, come non mi dispiace neanche lo stile, per esempio, della Z900 RS o anche della vecchia Honda Hornet, insomma, quelle moto lì con quello stile classico e con quel faro tondo. Discorsi invece, le moto come sono fatte? Sono interessanti, se vogliamo, hanno un motore bello grosso, perché il motore, come dice il nome, è un 1.3 di cilindrata, esattamente è un 1.284 di cilindrata. La potenza non è molto alta, ma al contrario invece la coppia è molto elevata, mentre hanno il difetto di pesare effettivamente un po' troppo. Allora, vediamo un attimo le moto come sono fatte. Dunque, per entrambi i modelli, quindi per la versione Super 4 e per la versione Super Bowl d'Orra, ci sono due versioni SP, quindi c'è la versione SP per la naked e la SP anche per la versione con le semi carine. Per il resto, diciamo che, ecco, le moto comunque, la versione Super 4 e Super Bowl d'Orra, come tecnica, come ciclistica, sono praticamente le stesse. Il motore di queste moto, allora, il motore, dicevo prima, è un 4 cilindri, 1.284 di cilindrata, con una potenza di 111 cavalli a 7.750 giri e una coppia molto elevata di 112 Nm a 6.250 giri. Peso della moto, per la versione Super 4, la moto pesa 266 kg in ordine di marcia, mentre la variante Super Bowl d'Orra pesa di più, ovvero 272 kg in ordine di marcia. Allora, vediamo un attimo questi dati. Il discorso potenza non è molto alta, cioè nel senso che qualcuno potrebbe dire che il motore è a 4 cilindri, 1.300, 111 cavalli, sono effettivamente abbastanza pochi. In effetti è così, onestamente non so perché la potenza sia così contenuta, però potrebbe essere che, insomma, per queste moto qua non serve avere 200 cavalli, quindi Honda abbia deciso comunque di castrare, se vogliamo, la potenza, no? Cioè, alla fine, 111 cavalli non sono pochi, però ecco, su un motore 1.300 è meno potenza rispetto, per esempio, a un GSX-S750 della Suzuki, giusto per lanciarne di una, no? Cioè, nel 2021, 111 cavalli ormai non sono tanta roba, è questo che intendo. Ma comunque, probabilmente, la potenza basta per la tipologia di moto, mentre la coppia è contraria e molto alta, perché è 112 Nm, così in basso, 6.250 giri, capite che è molto alta, più o meno è la coppia che abbiamo sulla nuova CBR1000RR-R della Honda, ovvero la subesportiva uscita quest'anno. Quindi la coppia è molto alta, la potenza al contrario è abbastanza contenuta. Invece il peso, il peso, ragazzi, il peso è alto e c'è poco da dire. Parliamo di circa 270 kg in marcia, facendo una media tra le due ed effettivamente, facendo un paragone, per esempio, con la Honda CB1000RR, ovvero la Maxi Naked che noi abbiamo in Italia, la nostra CB pesa tipo 212 kg in marcia, che è il peso anche, per esempio, della Kawasaki Z900. Quindi capite che 2,70 circa di peso per le due moto, per le due CB1000RR, effettivamente è molto molto alto, cioè le moto pesano tanto, c'è poco da dire. Invece, come ciclistica, abbiamo un telaio di doppia culo in acciaio, abbiamo la Forcera da 43 mm a steri rovesciati, abbiamo un pedofrenante con le monoblocco della Brembo e poi abbiamo le pneumatici che sono 120 all'anteriore, 180-55 al posteriore. Come, diciamo, elettronica, abbiamo un nuovo comando elettronico, l'acceleratore elettronico nuovo con la Trotto Bywire, abbiamo 3 mappe motore, più l'aggiunta anche del Cruise Control e abbiamo anche, mi dimenticavo, lo scarico nuovo 4 in 1. Ora, discorso prezzi, dunque le moto, quanto costano? Allora, dicevo che ci sono due allestimenti diversi, una versione base e una variante SP per entrambe le due moto. Per quanto riguarda la Super 4, la base costa circa, convertito in euro, 12.000 euro, mentre la variante SP va a costare 15.000 euro circa, un 15.300 euro circa, mentre per la versione Super Bowl Dora la versione base costa 13.000 euro e la versione invece SP costa circa un 16.300 euro. Ovviamente sono dei prezzi ottenuti tramite una conversione dei prezzi per il Giappone. Non ci sono infatti conferme, dicevo prima, dell'arrivo delle moto in Italia, quindi non sappiamo le moto in Italia quanto potrebbero costare. Diciamo che se i prezzi fossero gli stessi in Italia, secondo me non sarebbero delle moto da evitare, ma sarebbero delle moto interessanti. Alla fine 12.000 euro, ti prendi una moto con uno stile classico, per quanto riguarda la Super 4, 12.000 ci può stare. Considerando le altre moto, per esempio le naked medie, quanto costano adesso, per esempio con la T-900 che va a costare circa 10.000 euro, secondo me 12.000 per questa moto qua, muscolosa, la CB 1300 Super 4 ci potrebbe stare. Però va anche detto, sappiamo benissimo, che se in Giappone una moto esce costando X, in Italia tra qualche mese arriverebbe a costare X elevato alla terza. Quindi ovviamente questi prezzi qua sono da prendere con le pinze, cioè sono per il mercato giapponese, da noi le moto quasi sicuramente costerebbero comunque di più. E da questo video mi sembra di avervi detto veramente tutto. Diciamo che ecco, non sono esattamente il mio stile di moto, lo sapete, però comunque sia, sono delle moto interessanti. Diciamo che nel 2021 c'è una fetta comunque di appassionati che ancora amano le moto con questo stile. Per esempio lo stile, dicevo, della Z900 RS, che è una moto che in Italia non vende niente male. Comunque vi ricordo sempre che la CB13 è una moto che era disponibile anche in Italia fino, mi sembra, al 2012 se non sbaglio. Però è una moto che adesso non è più a listino comunque della Honda. Da questo video è tutto, sull'alto se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, con lo Instagram, e di me al micro ufficiale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.